musica 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 L'amica 28 ottobre adesso c'è il quinto, se non lo sai, il quinto raduno della sua scuola non è fatto in militare, cioè esercita l'avviazione di Babilia che ancora diviene in barbola di finanza. Qui hanno il berretto, qui hanno il casco, molti sono morti in trincea perché non avevano il casco, quindi le schegge o cose del genere, o botti su qualsiasi cosa, pietre che arrotolavano, e quello lì invece sono sui montagni, sono nella zona dell'ortigara e portano su le stufe come con i camini, con la stufa in spalle e così via. Però appunto, è strano vedere in trincea qualcuno col berretto perché in generale hanno tutti il casco, tutti l'elmo. Quindi faccio molte cose, però ad un certo punto dico che Kaiser faccio adesso, faccio un tredesimo giro per San Ziner e quindi capito anche qua. Ripeto come ho sentito forse, è la terza volta che hai fatto. C'erano le foto fatte in uno o due foto fatte nei Balcani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.